La Camera di Commercio ha reso noti i dati relativi al numero delle imprese al 31 dicembre 2021. Rispetto al Funesto 2020 ci sono 17.317 partite IVA in più in Italia. Quasi ovunque il bilancio è positivo, tranne che in provincia di Macerata, che segna un segno assai negativo, anche rispetto ad uno dei peggiori anni della storia. Il presidente di CNA Macerata, Maurizio Tritarelli, commenta così la particolare tendenza negativa. Nel corso del 2021 abbiamo perso 394 imprese rispetto all'anno precedente, che già ne contava 413 in meno. Le cancellazioni arrivate alla Camera di Commercio nell'anno appena trascorso sono di ben 2623 imprese. Quasi un'impresa su 10 ha chiuso la propria attività, molti di più delle 2045 cancellazioni avvenute nell'anno pandemico. Così male nelle Marche solo la provincia di Macerata. Anche Ascoli Piceno ha un bilancio annuale negativo, ma con sole 57 imprese in meno, precisa il presidente Tritarelli. La nostra provincia tira in basso tutta la regione, che nonostante l'incremento registrato a Pesaro, più 146, ad Ancona, più 135, paga un saldo negativo complessivo di meno 126 imprese. Il presidente CNA approfondisce quindi l'analisi, dichiarando che sono stati gli ultimi due mesi dell'anno a far colorare gli indici, con 971 cancellazioni, più di un terzo del totale. L'approfondimento di Tritarelli si sposta poi sui vari settori. Se in precedenza avevamo giustificato il novembre nero dell'edilizia con un riassorbimento delle micropartite IVA dopo la prolungrata crisi settoriale, oggi vediamo che il settore costruzioni rappresenta solo il 35% del problema, con 338 imprese cessate. Commercio e manifattura, conclude così Tritarelli, senza grossi picchi mensili, perdono costantemente pezzi. Solo nei loro langhi quasi la metà delle imprese cessate è nella nostra provincia.